Parliamo ora di sicurezza, anche un business in forte crescita con un fatturato di quasi 2 miliardi e mezzo a Ropero, la fiera del settore. Telecamere per la videosorveglianza, sistemi anti-intrusione e anti-incendio, controllo accessi. Il mercato sfrutta sia la percezione di insicurezza dei cittadini, sia le reali esigenze delle imprese e offre di tutto di più. Un comparto in forte crescita, più 5% rispetto al 2015, quasi 2 miliardi e mezzo di euro il fatturato del 2016 in Italia. Ci sono importanti produttori italiani che stanno esportando e quindi soprattutto anche in questo momento c'è molto fermento su tutta la parte, anche software e sviluppo in Italia. Telecamere intelligenti al servizio delle smart city per la sorveglianza di strade e attività commerciali, maxidroni militari e apparecchiature che volano per sorvegliare dall'alto in diretta piazze, dove si svolgono grandi eventi, fornendo alle forze dell'ordine, per esempio, notizie utili al controllo del territorio. Nelle nostre volanti abbiamo questo strumento importante denominato Mercurio, che individua e legge le targhe e le analizza. Non poteva mancare l'impianto di allarme della casa, controllabile attraverso lo smartphone. Con un'applicazione si possono così gestire anche tapparelle, cancelli e illuminazione.